Buongiorno, iniziamo a dialogare di Martin Heidegger, un nuovo percorso di filosofia dedicato a quest'autore enorme, gigante, probabilmente il massimo filosofo del Novecento, sia pure con le sue contraddizioni e con i suoi elementi critici estremamente problematici, soprattutto dopo la pubblicazione dei quaderni neri, dove emergono spunti molto critici, molto problematici verso la sua figura. È certamente una grande sfida parlare di Heidegger perché è complesso e non è facile la sua traduzione didattica o riassunto o con l'indicazione didattica dei suoi contenuti fondamentali. Noi ci occuperemo del primo Heidegger in modo particolare e iniziamo da un'introduzione al suo pensiero. Heidegger ha, in modo di vedere, toccato i grandi temi, le grandi problematiche, i grandi elementi critici della cultura contemporanea, della cultura del Novecento. Ha compreso molto bene, molto chiaramente, qual è il potere, il potere pericoloso, debordante della tecnica che da mezzo della cultura contemporanea è diventato un fine. Ciò che la tecnica vuole si realizza, indipendentemente dalla volontà e dal senso che la cosa abbia, fino a giustificare anche le azioni più violente o trovare un significato anche per le azioni più violente e così più inaccettabili. Ma poi, questo strapotere, questa strapotenza della tecnica ha condotto alla dimenticanza dell'essere, termine che suscita a volte una certa perplessità o a certi studenti, anche una certa difficoltà di definizione, ma qui per essere poi intendiamo il tema del senso, del significato, in modo particolare poi vedremo del senso del significato nel primo Heidegger dell'esistenza. Ma poi aggiungerei un'altra grande questione che Heidegger ha perfettamente compreso, che è quella relativa alla banalità. La società della società di massa, della società contemporanea, della società della tecnica, quella che poi nel neomarsismo, che sarà chiamata tecnico-capitalistica, nella scuola di Francoforte, conduce e porta gli esseri umani all'anonimato, all'impersonalità, al si dice, e quindi a una situazione di banalità, di impersonalità che diventa dolorosa e da cui poi l'essere umano tende ad uscire. Quali sono le vie d'uscita sarà una delle tematiche, una delle problematiche che affronteremo trattando Heidegger. Noi nei nostri percorsi, facciamo solo dei piccoli cegni alla vita, si può trovare poi nel manuale, da altre parti, ma citiamo alcuni momenti che sono significativi per comprendere il suo pensiero. Diciamo subito che lui ha insegnato a Friburgo e quello che interessa è notare che l'insegnato a Friburgo ha appreso e assunto la cattedra di Husser, il padre della fenomenologia, che è stato poi anche il suo maestro, e la fenomenologia è stato un elemento importante, in qualche modo un punto di riferimento, un punto di partenza, anche per la filosofia di Heidegger, anche se poi dopo la interpreterà a suo modo, e sappiamo che Husser non sarà molto d'accordo sulle modalità interpretative della fenomenologia da parte di Heidegger. Poi ha lavorato a Marburgo, a Marburgo ha conosciuto Anna Arendt, una dei più grandi filosofi e donne del Novecento, quella la quale ha prodotto libri importanti come L'origine del totalitarismo, La banalità del male, che poi dopo essendo ebrea ha dovuto, l'elemento contraddittorio forse anche nella vita italiana, ha dovuto emigrare in America. Nel 1933 diventa rettore dell'Università di Friburgo e aderisce al nazionalsocialismo, con una conferenza dal titolo Autoaffermazione dell'Università tedesca. Questo è un altro dei punti molto critici, molto problematici, anzi forse il più critico, il più problematico nella filosofia di Heidegger. Ci sono stati oggi degli studi molto attenti, la sua adesione al nazionalsocialismo non pare così leggera e così superficiale o temporanea, ma pare più complessa. Ciò non toglie, credo che qui la domanda che ci si debba fare, ora non abbiamo tempo di approfondire questo tema, delicatissimo, la domanda che ci si debba fare è se la sua filosofia conduce al nazionalsocialismo o se porta in una direzione inversa, una direzione addirittura opposta. Ecco, questo credo è la domanda e, a mio modo di vedere, come altri hanno detto, altri studiosi dell'argomento, hanno detto che la sua filosofia non conduce al nazionalsocialismo, ma conduce a direzioni diverse. Lui poi si rimetterà l'anno dopo e in qualche modo abbandonerà questa sua adesione politica e poi sarà sospeso nel 936 e dopo però subirà anche un'analisi, una revisione dopo la seconda guerra mondiale dove si valuterà se è adatto o se può tornare all'insegnamento. Vi sarà un dibattito molto critico, molto problematico, fino a che nel 1952 una commissione, che prima aveva avuto elementi più critici e problematici, deciderà che poteva tornare all'insegnamento. Però non ci sarà mai in lui una parola di pentimento, una parola di critica, di autocritica verso queste sue scelte della sua carriera. Cele Berrimo nella sua vita credo sia a citare il ruolo che ha avuto la baita, la famosa baita nella foresta nera, Tottenberg. In questa baita ha lavorato a testi molto importanti, penso a essere tempo, ma anche un elemento simbolico nel suo stile, nel suo stile non solo di vita ma anche di filosofo e di studioso, una baita che ha la sua valenza per comprendere il personaggio. Si dice che ci parla Heidegger di due fasi, si parla di due fasi, sono evidenti in qualche modo. La prima cosiddetta esistenzialista è incentrata sull'esistenza umana, anche se lo è fino a un certo punto che l'esistenza umana è indicata in rapporto alla riflessione della definizione dell'essere, ma certo nel mondo esistenzialista questa parte qua avrà avuto il suo peso. È la parte connessa a essere tempo del 1927, un libro che appena uscito era dedicato al suo maestro Hus. Poi sappiamo che lui stesso vorrà precisare che lui non è stato un esistenzialista, infatti in qualche modo non lo è, anche se le sue riflessioni hanno avuto il suo peso, avuto la loro importanza poi nella cultura esistenzialista. Una seconda fase è connessa a quella che è chiamata la svolta, che era la svolta, dove l'attenzione è rivolta alla questione dell'essere, che è alla definizione di questo grande tema, tema che non è facile, è di facile definizione, sappiamo che anche in essere tempo il capitolo sull'essere in qualche modo manca. E questa riflessione sull'essere avverrà attraverso il linguaggio, attraverso la poesia, il famoso suo lavoro su Holderly, l'essenza della poesia, ma poi soprattutto citerei i sentieri interrotti, una raccolta di testi che affrontano, aprono la strada, una strada nuova, diversa, non sempre così semplicissima, di semplicissima da legge, di semplicissima interpretazione, che è quella relativa all'analisi allo studio dell'essere. Interessante qua in questa fase è la famosa lettera sull'umanismo, dove mette in discussione una serie di cose, una serie di tematiche, anche sulla tecnica, sulla scienza, su un certo tipo di sviluppo e sulla ripresa della questione dell'essere. Quali sono le direttrici? Ci sono delle direttrici, i temi dominanti? Io direi sì di sì. Innanzitutto la prima direttrice, il primo tema dominante è quello della fenomenologia, che lui ricava in modo nuovo naturalmente, che prende da Husserl e che rappresenta un po' la nuova ontologia, la nuova ricerca sull'ente. L'ontologia appunto è la ricerca sull'ente, ricordiamoci anche di Aristotele, no? La ricerca sull'ente, sull'ente, sulle cose che sono, con un nuovo senso dell'essere che va rintracciato nel come i fenomeni si presentano alla coscienza. La coscienza è intesa come fondamento universale, pensando a Kant, trascendentale di ogni esperienza. Insomma, cercare il senso dell'essere nel come la coscienza la percepisce attraverso i fenomeni. È una cosa un po' particolare, ma il metodo fenomenologico, che poi lui tradurrà un po' a suo modo, che Husserl gli dirà che lui, che Husserl è stato il creatore della fenomenologia, dirà ad Heidegger che non è coerente con quello che avrebbe dovuto essere la fenomenologia, ma diciamo che in qualche modo questo metodo fenomenologico, che è la ricerca dell'essere attraverso il modo come i fenomeni si presentano alla coscienza e come noi li percepiamo, sarà una traccia nel lavoro, nella ricerca di Heidegger anche, a partire certamente da essere tempo, in modo significativo, in modo particolare. Poi una nuova visione del tempo, una visione del tempo, una visione della storia, che trae certamente in qualche modo dalla tradizione cristiana, non sappiamo che lui ha anche studi ideologia Heidegger, il tempo non come cronologia di fatti, di avvenimenti che si susseguono, ma come esperienza esistenziale, dove trovare un significato, dove trovare un compimento di sé e sappiamo che nel mondo cristiano San Paolo parla di quello che è la famosa parousia, cioè il cristiano vive nella presenza del divino e nell'attesa del divino sapendo che Dio può arrivare da un momento all'altro e che Dio è presente in ogni attimo e quindi il tempo in qualche modo come selettore di senso, ecco, il tempo come selettore di senso in cui individuare, in cui collocare questa ricerca dell'essere e del significato. Ma vedremo, spero, si capisca meglio poi, andando avanti. Un altro grande riferimento è sicuramente un'altra grande direttrice a te, ma è sicuramente Aristotele. Aristotele, certo con la sua metafisica, sappiamo che Aristotele ci ha detto che l'essere si dice in molti modi e questi diversi modi consente di vedere le sfaccettature anche da un punto di vista fenomenologico, cioè nella ricerca dell'essere, della ricerca del senso dell'essere attraverso i fenomeni e come i fenomeni appaiono a coscienza, ne consente di vedere l'essere in diversi punti di vista, sappiamo che Aristotele lo diceva in quattro modi diversi, ma soprattutto non solo in modi di vedere l'essere, è una delle tematiche centrali di Heidegger, è proprio questa ricerca sull'essere inteso come senso e come ricerca di significato, ma soprattutto il tema poi della scelta, direi in Aristotele quella della filosofia pratica, perché è la scelta che nella filosofia pratica consente lo sviluppo sia nelle virtù etiche e poi nelle virtù dianoietiche. Sappiamo che il ricorso della scelta era più complesso in Platone, perché in Socrate chi conosceva il bene non poteva altro che praticarlo, qui invece è una prospettiva di scelta, è una prospettiva così connessa alla saggezza e anche alla sapienza. La scelta è un tema dominante, d'altra parte la scelta è una condizione per conseguire il nostro essere. Ma forse il tema cardine nella filosofia di Heidegger, o per comprendere Heidegger, è quello della critica al cosiddetto pensiero calcolante. La nostra società, la società del numero, dove le cose valgono in quanto sono misurabili, numerabili, la società della tecnica, dove le cose hanno un valore, se hanno un'utilità, se hanno un risvolto applicativo, sono queste dimensioni, società del tecnico calcolante, che hanno fatto dimenticare, hanno fatto cadere la questione dell'essere, cioè la questione del senso delle vite, del senso dell'esistenza e del significato che noi diamo al nostro essere, al nostro esistere. E per certi versi hanno alimentato il senso della banalità della nostra esistenza. La tecnica è uno di quegli elementi che ci fa perdere personalità, ci fa perdere significato, ci fa perdere senso. La questione attiva un certo sviluppo della tecnica, o in certi versi del pensiero calcolante che già il suo maestro Unstel aveva anticipato in quella conferenza, che poi è diventato un famoso testo, la crisi delle scienze europee del 1937. Mi fermo qua, riprenderemo la questione di Adegere Parlando da Essere Tempo, vi aspetto ai prossimi incontri e vi ringrazio per avermi seguito.